Un aereo militare come monumento da installare nell'area verde in località San Rocco a Sant'Arsenio in onore dei caduti dell'area e la proposta presentata con apposta esistanza dal maresciallo dell'aeronautica militare Domenico Pica, presidente dell'associazione aeronautica sezione Vallo di Diano al comune di Sant'Arsenio, lo si evince da una delibera digiunta pubblicata sul lab pretorio del comune guidato da Donato Pica, dove si legge testualmente si ritiene potersi favorevolmente esprimere in merito trattandosi di una iniziativa di alto valore civile e di indubbio riconoscimento della nostra memoria storica, che peraltro si legge ancora sul documento nel corso degli anni l'associazione arma aeronautica si è sempre contraddistingue per la sua operosità nonché la qualità delle proposte e dei progetti attuati. All'associazione aeronautica sezione Vallo di Diano, che si assume l'impegno di curare il controllo e la manutenzione del monumento, il comune di Sant'Arsenio, secondo quanto si evince ancora dal documento pubblicato a titolo di rimborso a spese, concederà un contributo di 2.000 euro. L'installazione avverrà nell'area verde di fronte all'ospedale di Sant'Arsenio.